La provincia di Isernia non è affatto un'isola felice, certamente ancora una terra sana, ma c'è tanto da indagare e io per fortuna ho avuto la possibilità di farlo. Con queste parole l'ex procuratore capo Paolo Albano ha sintetizzato i suoi oltre otto anni di permanenza in Molise, segnati da molte inchieste, alcune delle quali di rilevanza nazionale. Nell'ultimo incontro con la stampa ha voluto accanto a sé il suo più stretto collaboratore, il funzionario Gianfranco Di Filippo, testimone delle tante operazioni condotte, dallo spaccio di droga all'usura, dalla corruzione nella pubblica amministrazione ai reati ambientali, dal recupero di centinaia di opere d'arte di valore inestimabile agli omicidi, su tutti quello all'ospedale di Venafro. L'attività di Albano è stata davvero a tutto campo. Io quando venni alla procura di Isernia, la procura aveva vissuto anche momenti difficili e quindi il mio scopo principale era quello di riportare serenità, equilibrio e soprattutto di portare a termine il maggior numero di operazioni contro la criminalità, in specie contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, contro il fenomeno dell'usura che purtroppo è ancora tanto diffuso a Isernia, ovviamente le operazioni contro la corruzione. Nella sua lunga carriera nella magistratura i reati ambientali sono stati sempre una priorità per Albano. Non a caso lascia con un'indagine ancora in corso sull'inquinamento nella piana di Venafro, ispirata dagli esposti delle mamme per la salute e dall'ex sindaco Sorbo. È stata affidata una consulenza tecnica alla ditta che in Italia è tra le più specializzate in materia e siamo in attesa dei risultati, ovviamente non mi pronuncio perché saranno i colleghi ad occuparsi del proseguo, però posso dire e rassicurare dei venafrani che è stato fatto veramente tutto il possibile per l'accertamento della verità in materia e soprattutto per accertare se il territorio, nelle acque, nel territorio, nell'aria effettivamente esiste questo inquinamento ambientale. Ai Serni Albano ha raccolto tantissime soddisfazioni e pochi rimpianti, eppure va in pensione con un pizzico di amarezza, ha detto anche durante l'incontro di commiato in tribunale, al quale sono intervenute autorità provenienti da tutta la regione. Una pena di tristezza perché ero profondamente legato a questo ufficio, a questa terra, mia nonna era molisana e quindi nelle mie vene scorre sangue molisano ed io ormai ero profondamente legato e affezionato all'ufficio della Procura di Serni.